Buonasera e bentornati alle nostre dirette Instagram e Facebook, dirette streaming di GQ Spirit of Cortina. Questa sera ospite della nostra lounge di GQ, il sindaco di Cortina, Gian Piero Ghedina. Benvenuto. Grazie, grazie a voi e buonasera GQ. Grazie, oggi grande entusiasmo si respira a Cortina questa sera perché come molti di voi sapranno Marta Bassino ha regalato all'Italia la prima medaglia ed è una medaglia d'oro in una disciplina molto particolare che è quella del slalom gigante parallelo. Grande tensione oggi sulle piste, ci saranno anche un po' di polemiche legate sia alla tracciatura delle piste sia diciamo all'exequo della medaglia d'oro con l'atleta austriaca, però insomma gioia e tripudio nel regno di Cortina perché questi mondiali di sci finalmente ci regalano una svolta e fanno suonare l'inno nazionale. Sindaco, usci ripaga un po' questa situazione perché negli scorsi giorni parecchi musi lunghi. Ma devo dire complessivamente è una situazione difficile non solo perché siamo sotto pandemia ma anche il tempo certamente nelle prime giornate non ci ha dato tregua. Devo dire che oggi sicuramente è una giornata di festa, come dicevi bene tu è arrivata la ciliegina sulla torta, quindi questa bellissima medaglia d'oro di Marta, quindi anche i tecnici oggi possono gioire. Cortina certamente sta gioendo per delle giornate splendide, una cornice incredibile e soprattutto una grande visualizzazione sia a livello ovviamente media e anche una presenza costante in televisione, quindi questo è sicuramente un punto a nostro favore. Siete sotto i riflettori del mondo intero, 70 sono i paesi che partecipano a questi mondiali, l'abbiamo ricordato più volte, questi sono dei mondiali fortemente televisivi e fortemente connessi con il mondo dei social network, anche perché appunto sono mondiali senza pubblico. Però negli scorsi giorni c'è stata la grande delusione della non possibile apertura delle piste di sci, quindi o 5 marzo o stagione finita. Sì, devo dire che oggi stiamo vivendo questa bellissima parentesi dei mondiali con una grande visibilità e soprattutto con una cortina che sembra quasi in un aspetto normale, gli alberghi hanno riaperto e certamente una piccola boccata d'ossigeno è arrivata. E' certo che questa stagione invernale è particolarmente difficile, triste per i nostri imprenditori, il fatto di non aver avuto soprattutto il Natale che incide per circa il 30% sul fatturato medio di una stagione invernale ci ha costretto veramente a tenere stretti i denti, ma soprattutto in un proseguo della stagione in cui non riapriranno gli impianti, questo creerà sicuramente tante difficoltà. La filiera dello sci è molto lunga, quindi non è che parliamo sempre degli soliti albergatori o imprenditori fortunati, qui ci sono tante famiglie che purtroppo senza lavoro e questo è sicuramente un grosso problema, soprattutto per il fatto che i ristori qui non sembrano arrivare. Ecco, che cosa succede in comune in questi giorni? Deve essere particolarmente complesso per un amministratore dover gestire, noi lo chiamiamo malcontento, però secondo me sarà molto più alto, facciamo gli educati e lo chiamiamo malcontento, ma immagino che ci saranno un sacco di proteste, come riesci a tamponare? Diciamo che noi come amministratore, come sindaco di una città che è anche paese, perché dovrei dire che noi siamo molto comunità avendo 6.000 residenti, però siamo molto città internazionale e se pensi che durante il periodo di alta stagione in situazioni normali arriviamo a 60.000 persone qui a Cortina, quindi la difficoltà certamente è di gestire questa località un po' a fisarmonica con servizi da grande o media città. Detto questo, ovviamente noi ci troviamo a dover affrontare le attività ordinarie, straordinarie, urgenti e ovviamente questa crisi che sta prendendo un po' tutti e devo dire in particolar modo segnando la montagna, noi viviamo di turismo, abbiamo certamente una doppia stagione, ma se siamo stati toccati nella stagione estiva, ancora di più in quella invernale che è quella poi più importante fondamentale. Devo dire che registriamo sicuramente anche molte famiglie, molte persone cosiddette normali che in questo momento stanno soffrendo e ci siamo dovuti anche attivare proprio attraverso i servizi sociali per riconoscere o per dare una mano sia a loro ma anche agli imprenditori con una serie di provvedimenti e anche con una fiscalità che li vada incontro. Certamente bisogna tenere duro, però è certo che qualche volta Roma ci sembra particolarmente distante. Nei prossimi giorni proseguono le gare, la cerimonia finale sarà il 21, quindi ci sono ancora anche delle opportunità per l'Italia dello sci di raggiungere qualche successo. Che cosa rimarrà di questi mondiali dopo il 21 di febbraio? Beh, innanzitutto devo dire che è stata ed è una grande opportunità di visibilità internazionale, questo senza dubbio. Ovviamente noi, la mia amministrazione ha fortemente puntato sui grandi eventi, quindi i mondiali del 2021 ma anche le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, evidentemente c'è questo fil rouge che ci condurrà nei prossimi cinque anni ad affrontare questo grandissimo evento e tutte le opportunità che ne derivano. Tante risorse sul territorio che, se ben gestite, come io mi auguro che sarà fatto, ma ne sono certo, porteranno certamente una città più moderna, più nuova, con servizi sicuramente più all'avanguardia, mantenendo però ovviamente al centro quello che normalmente viene chiamata come sostenibilità, il nostro territorio, la nostra natura, perché è quella la nostra primaria ricchezza. Però certamente mi aspetto, mi aspetterò e insomma cercheremo di offrire una città complessivamente più moderna, più attrezzata, competitiva rispetto alle altre località turistiche della Svizzera o dell'Austria, visto che probabilmente negli ultimi 20 anni un po' di strada forse l'avevamo persa, quindi sicuramente è una grande opportunità da sfruttare a pieno. Senti, gli ampezzani come stanno reagendo a questi riflettori puntati? Tu dici giustamente una comunità molto coesa, 6 mila persone che hanno vissuto questo cambiamento, che godranno di alcune cose che rimarranno sul territorio, io penso alla nuova piscina, penso alla strada, perché poi diciamo magari chi ci ascolta non è mai venuto a Cortina, però in montagna diciamo avere una strada che funziona in un certo modo o in un altro fa davvero la differenza nella vita quotidiana, perché a Cortina arrivano persone che lavorano qui e che magari abitano in paesini più piccoli che vanno sia dall'Alto Adige che dalla parte appunto del Veneto. Come stanno reagendo gli ampezzani? Beh, diciamo gli ampezzani come dicevo siamo molto paese, quindi c'è sicuramente molta attenzione al nostro territorio, quindi molta cautela e qualche volta anche la preoccupazione da tutto quello che arriva da fuori. In questa partita devo dire che comunque la dimostrazione che le cose si possono fare anche bene come questi campionati hanno dato sicuramente una maggiore consapevolezza e una maggiore sicurezza. È certo che Cortina la stiamo proiettando verso i prossimi 10 o 20 anni sicuramente in una veste diversa. Il fatto di poter lavorare su degli obiettivi come sono stati il 2021 ma come sono le Olimpiadi del 2026 è certamente una grande fortuna. Questo momento particolare di pandemia, di crisi generale, chi non ha la fortuna di poter lavorare su degli obiettivi sul medio termine e certamente se la passa probabilmente un po' peggio di noi. Quindi questo ci dà sicuramente forza. C'è un grande fermento su Cortina, devo dire che le istituzioni ci sono particolarmente vicine e devo dire sia nella partita olimpica ma anche in questi mondiali devo registrare una grandissima vicinanza sia della Regione Veneto ma anche del governo. Abbiamo avuto tre diversi ministri che ci hanno seguito come sottosegretario, come ministri dello sport e tutti in ugual misura hanno messo al centro lo sport, i grandi eventi e soprattutto l'attenzione e la voglia di far bene. È una partita complessa ma devo dire che qualche volta lo sport riesce a mettere d'accordo tutti. Ecco, mi fa piacere che tu parli di sport. Cortina ha sempre vissuto una duplice identità, per tutti è un luogo incantato dal punto di vista naturale ma è anche uno dei centri glamour, del nostro paese e qualche volta è balzata alle cronache soprattutto per il suo lato più diciamo modaiolo e VIP rispetto all'identità sportiva. Forse questi mondiali senza tutto il pubblico hanno restituito a Cortina quello spirito un po' delle Olimpiadi del 56 e comunque quella identità che a Cortina si scia, si fa sport, le montagne sono dei luoghi atletici. Sì, devo dire anche se è la nostra forza quella di essere anche non solo piccolo paese come ce ne sono tanti in montagna che offrono solamente lo sci, devo dire Cortina è anche un po' città, quindi c'è lo sport, c'è la cultura, c'è il teatro, c'è la musica, ci sono gli eventi culturali legati alle presentazioni di libri, quindi effettivamente uno si può scegliere la Cortina che vuole, un momento importante è certamente anche la ristorazione e anche il divertimento e Cortina da questo punto di vista è sicuramente protagonista nel panorama più ampio delle Alpi. Detto questo è evidente che le Olimpiadi del 56, i mondiali ma anche le Olimpiadi sono un grande momento di sport, a Cortina si vive di neve e ghiaccio praticamente tutto l'anno e quindi per noi lo sport rimane principe all'interno delle proposte che riusciamo a dare e certo che Cortina offre tanto, offre molto e ne siamo anche abbastanza orgogliosi. Allora grazie al sindaco di Cortina, Gian Piero Ghiedina, per esserci venuto a trovare, buon proseguimento nei prossimi giorni, forza alle ragazze dell'Italia, forza azzurri e grazie a Cortina. E grazie a voi.